Ciao a tutti, dopo un po' di tempo torniamo con un nuovo set Lego, questo l'abbiamo preso sul Lego Store nei giorni di Black Friday riscattando i punti, quindi non è un Lego in vendita anche se sicuramente si troverà sui vari siti da chi comare come noi l'ha preso in omaggio e cerca di rivenderlo. Questo è di Walkman, quindi è un tuffo dal passato quando c'erano ancora le famose cassette, è un Lego di 145 pezzi quindi immagino verrà piuttosto piccolino, però sembra molto bellino, c'è addirittura la cuffia, vado ad aprire non ci sarà molto dentro, ci sono le istruzioni che fanno anche da copertina del Lego sono piuttosto dettagliate perché è piuttosto grosso il librettino per essere solo 145 pezzi e poi dentro abbiamo i pezzi, credibile a dirsi, poi non c'è altro chiaramente ora da vederlo, cioè è rosso, però i pezzi sono quasi tutti neri e grigi perché di rosso mi sa che c'è solo qualche pezzo che poi mettendolo davanti lo fanno sembrare rosso però probabilmente il retro sarà nero, comunque sembra molto bellino, ora lo andiamo a costruire e poi lo facciamo vedere montato. Allora abbiamo già completato questo Lego, l'Alice ci ha messo circa un'oretta in una giornata di convalescenza, Alice fa un po' vedere, c'è il corpo principale del Walkman che si apre e ci sono le rotelline, poi c'è le cuffie e poi c'è questa bellissima cassetta che Alice ora ci fa vedere che entra effettivamente nello Walkman, anche se ci va un po' precisa e praticamente poi c'è il tastino, non ci entra, c'è il tastino, c'è un tastino su un lato ecco, poi si chiude, vero? Poi volendo il jack della cuffia si infila nel pallino e poi per togliere la cassetta si riapre e si pigia quel pulsantino sul lato e poi con una certa difficoltà si ritira fuori. quindi, vabbè, chiaramente è una cosa così, un po' un set nostalgico, però è bellino perché alla fine si riesce a far vedere a bambini qualcosa che purtroppo non so se si riesce, non si riuscirà mai a recuperare, alla fine le musica sette erano belline, e qui niente, questo era il set Lego questo qua, sentiamola Alice cosa ha da dirci, è stato difficile? No! l'ha fatto quasi tutto da sola, tranne qualche passaggio, ci sono alcuni passaggi un po' un po'... che ho dimenticato no, più che altro dove si dà per scontato certe cose stavo per saltare una pagina sì, vabbè, poi anche distrazioni del genere, però diciamo che per la maggior parte del tempo del set ha fatto tutto da sola quindi, complimenti Alice e lasciamola giocare con questa riproduzione Walkman voi continuate a seguire il rifugio del funghetto, mettete mi piace del rifugio del funghetto ciao ciao ciao